Ciao a tutti, sono Naomi Antonelli. Ho terminato il ciclo di studi in scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana presso il Campus Biometrico nel 2019, conseguendo prima il titolo triennale e poi quello magistrale, con indirizzo in tecnologie alimentari. La scelta di quest'ultimo ramo è stata quasi immediata perché comunque già dai primi anni di corso avevo compreso di voler lavorare in un contesto aziendale. In tal senso il Campus mi ha fornito tutti gli strumenti necessari per garantirmi il miglior inserimento possibile in questa nuova realtà. sia da un punto di vista di competenze tecnico-scientifiche, sia da un punto di vista relazionale e umano. Nella mia quotidianità è molto utile avere sia delle conoscenze di nutrizione clinica, sia delle conoscenze più tecniche. Quindi tutte le discipline insegnate al Campus mi sono tornate utili in un modo o nell'altro perché hanno contribuito alla formazione di un background di contenuti vari e articolati che mi permettono di affrontare con serenità le sfide di tutti i giorni. Terminato il quinto anno e quindi conseguita la laurea magistrale ho avuto conferma del fatto che non si smette mai di studiare. Andare però a recepire tutti gli aggiornamenti e le novità con delle conoscenze solide alla base sicuramente facilita molto le cose. Infine tra le soft skills a cui faccio più ricorso nella mia quotidianità c'è sicuramente la capacità di comunicare in modo efficace e quindi di veicolare in modo chiaro e conciso dei concetti. La capacità di sapere ascoltare il mio interlocutore e quindi comprendere quello di cui ha bisogno, comprendere quello che mi sta dicendo per andare poi a valutare delle opportunità e o delle soluzioni. E infine la gestione del tempo, quindi organizzare il tempo a disposizione nel miglior modo possibile. Grazie a tutti.